Onorevole dalla Chiesa, lei è in Commissione Cultura qui a Montecitorio, è soddisfatta di questa... Onorata, perché essere in Commissione Cultura a Montecitorio credo che sia una delle cose più belle che mi potesse capitare. Ecco, adesso sono veramente felice perché posso occuparmi di temi che mi piacciono, che ho bazzicato, diciamo così, in questi 40 anni di televisione, televisione, libri, spettacoli, borghi. Io credo che sarà un'esperienza e un'avventura molto molto bella. Cioè la mia vita adesso ha un senso completamente diverso. E poi ecco, per un paese come il nostro... Ma l'Italia per forza, perché l'Italia la cultura è alla base di qualunque posa, perché è alla base della scrittura, è alla base dell'arte, è alla base dei borghi marinari o quelli montani, è alla base di... L'Italia è cultura, ecco, questa è la cosa importante.